Il grande fratello, Rosy Chin, con rabbia, sfida la sua abilità culinaria. Nella casa del grande fratello, la concorrente Rosy Chin è stata coinvolta in una controversia legata alle sue abilità culinarie. Una semplice portata di gnocchi è diventata il catalizzatore di accese discussioni nella Camera dei Comuni. Il tutto ebbe inizio quando Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese espressero il desiderio di gustare un pasto più semplice, senza salse o condimenti elaborati, optando per olio e parmigiano. Questa richiesta scatenò una reazione intensa da parte di Rosy, che si sentì attaccata e desiderò chiarire la sua posizione, non costringo nessuno a mangiare ciò che cucino, dire che abuso del burro, come dici tu, non è corretto, perché non è così. La reazione di Rosy stupì i suoi compagni, che non compresero la ragione della sua preoccupazione. Anita e Giuseppe cercarono di spiegare meglio, sottolineando di apprezzare i sapori dei piatti di Rosy, ma talvolta li trovavano troppo conditi. Tentarono di farle capire che si trattava di preferenze personali, non di critiche complesse. Tuttavia, Rosy si sentì offesa e annunciò di smettere di cucinare, dichiarando, non cucino più, ho perso la voglia di farlo. Secondo lei, i suoi compagni facevano giudizi errati, e lei non impediva mai a nessuno di mangiare ciò che preferiva. La reazione di Rosy confondere e sorprese sia Giuseppe che Anita, che non si aspettavano un'estensione così estrema del suo risentimento. Dubitarono della sincerità delle sue emozioni, pensando potesse trattarsi di uno scherzo o di un momento fugace di frustrazione. Nonostante i tentativi di chiarire la situazione, i loro sforzi furono vani. Rosy sembrava esausta e si rifugiò in giardino per riflettere. Poco dopo, Marco Maddaloni cercò di avvicinarla, spingendola a parlare e ad aprirsi invece di chiudersi. Inizialmente sorpresa, Rosy spiegò di essere stufa e delusa dal suo atteggiamento verso le persone a lei care. Esprimeva il desiderio di non essere vista come una persona arrogante e di mostrare il suo vero sé. Marco tentò di consolarla, compreso il suo stato d'animo, e presumeva che anche gli altri concorrenti ne fossero consapevoli. Tuttavia, Rosy rimase scettica, continuando a fumare mentre cercava di placare la sua ansia. La situazione nella casa del grande fratello rimane tesa e incerta. Solo il tempo dirà se Rosy riuscirà a superare questo periodo di conflitto e a riappacificarsi con i suoi compagni. Nel frattempo, gli altri concorrenti cercano di comprendere le sue ragioni e di ripristinare l'armonia nella casa.